Abbiamo ospite nel Tg di Cilento Channel il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli perché dobbiamo fargli una domanda su un post che in questi giorni è apparso su internet e quindi abbiamo chiesto a Costabile di venire direttamente in redazione per rispondere. In realtà nella zona Lago in un post dell'ex presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburdi, Tarallo evidenziava una costruzione in cemento in località Lago e naturalmente criticava questa operazione dicendo che in realtà è zona protetta e quindi si chiedeva se ci fossero meno i permessi a costruire. Allora, chiariamo subito qual è la situazione. La situazione è questa. Io avevo già avuto segnalazione da parte di cittadini di questa attività, di questo intervento. È stato fatto un controllo da parte della Polizia Municipale congiuntamente all'Ufficio Tecnico che io ho attivato per verificare questo e da questo controllo è emerso che questo intervento risulta regolarmente autorizzato. Ma detto di questo intervento, io credo che la riflessione e la valutazione su questo tema del controllo del territorio sia più generale, sia più compressa e riguarda tanti attori protagonisti, ognuno per la propria competenza. Fermo restando che io sono il primo a criticare questo tipo di intervento, che a me non piace perché noi dobbiamo recuperare l'esistente, dobbiamo valorizzare il nostro territorio, il nostro patrimonio urbanistico. E allora, dicevo, la valutazione è diversa perché riguarda chi propone un intervento del genere, chi ha idea di sviluppare, chi progetta e dà la possibilità a un committente di proporre un intervento, perché conoscendo le norme, chi esegue, chi autorizza. Perché voglio ricordare, e lo dicevo prima, questo è un intervento che io ho scoperto, perché anche io ho fatto le verifiche, essere autorizzato dal parco, dalla sovrintendenza, dagli antipreposti, da chi dovrebbe avere poi il controllo di queste cose. Quindi la riflessione è più ampia e riguarda, ripeto, una serie di fattori, da chi progetta, partendo da chi progetta, da chi immagina al committente di dire, facciamo questo tipo di intervento, progettiamo questo tipo di intervento, da chi autorizza questo tipo di intervento, agli uffici comunali, infine, che rilasciano. Questa è una gestione autonoma, io sento di parlare, facevo riferimento del posto, ma qui non lo voglio toccare, perché questo sarà oggetto di altre valutazioni. Il sindaco, quali sono le competenze del sindaco su questa materia, che è una competenza dell'ufficio tecnico, fra l'altro su una pratica munita di tutti i pareri anche degli enti sovraccomunali. Qual è il principio, qual è la legge che dice che questa pratica che arriva in un ufficio tecnico, l'ufficio tecnico non lo deve rilasciare. Quindi la valutazione è diversa, è di come viene gestito il territorio, di quali sono gli strumenti in un territorio. Poi ho sentito parlare anche di piano regolatore, purtroppo il piano regolatore è il Comune di Castellabate. Noi siamo fermi, abbiamo approvato un preliminare di piano regolatore, dove oggi noi stiamo ancora aspettando il parco, nonostante io l'ho portato in giudizio al TAR, perché dobbiamo rivedere il piano del parco. Questo è il vero limite del nostro territorio. Oggi non si riesce a pianificare, non si riesce ad adottare gli strumenti urbanistici per via del piano del parco. E se nel parco nazionale del Cilento tantissimi comuni non riescono ad adottare gli strumenti urbanistici, sono proprio per questo motivo.